Dopo due anni torna Gubbio e viene riattivato un servizio nevralgico per la cittadinanza, per il territorio, per l'intero bacino dell'Alto Chiascio, quindi Gubbio, Gualdo Tadino e tutti i comuni della fascia appendinica. Torna il giudice di pace, lo sappiamo bene perché TRG ha seguito una questione istituzionale che ha visto dover lavorare in sinergia i primi cittadini e quindi finalmente questo taglio del nastro ad anno nuovo 2017. Allora, lei è già qua pronta a sistemare il suo ufficio che tra qualche difficoltà sarà attivato. Tra qualche ora, allora, dottoressa, intanto ci aiuti a capire il suo stato d'animo. Abbiamo visto che ha già cambiato la sua immagine nel profilo di Facebook con il nostro albero di Natale più grande del mondo. Un gesto che dichiara davvero un atto d'amicizia, no? Una sorta di felicità potremmo dire. Ma ci mancherebbe senz'altro quando ho avuto la conferma di essere stata nominata reggente qui all'ufficio del giudice di pace di Gubbio ho deciso di buon auspicio, di mettere nel mio profilo questo albero bellissimo che ancora non ho avuto l'occasione di vedere illuminato, ma spero di farlo il prima possibile. Sono felice di essere stata nominata. Avevo fatto questa domanda insieme a altri due colleghi, altri due colleghi, il dottor Pomanti e la dottoressa Di Fino. Il 20 di dicembre sono stata nominata io in quanto a seguito di una circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sono stata nominata in quanto più giovane come anzianita di servizio. Sono a Perugia, faccio il giudice di pace alla sede di Perugia, ormai da dieci anni, dopo un trasferimento da Terni, dove risiedo, dal 2012 al 2014 fino alla chiusura sono stata reggente anche presso l'ufficio del giudice di pace di Assisi e adesso iniziamo questa nuova esperienza qui a Gubbio, sperando che vada bene nel miglior modo possibile. Allora, per la cittadinanza e anche per i tecnici del settore ovviamente in servizio nevralgico è un territorio a livello come bacino di cittadinanza molto numeroso, ma sono territori comunque periferici. Quindi ovviamente è nevralgico tornare ad avere un servizio qui in loco. Siamo d'accordo su questo? Quanto è importante? Senza dubbio è importante anche perché Gubbio dal punto di vista del territorio è abbastanza distante da Perugia e quindi tutti coloro che volevano azionare, richiedere, vantare un diritto dovevano andarlo a fare all'ufficio del giudice di pace di Perugia mentre adesso finalmente possono rifarlo qui a Gubbio. Che cosa cambia? Cambia dal 2 gennaio che tutti coloro che vogliono iniziare un giudizio quindi promuovere un giudizio, vantare un diritto nei confronti di persone fisiche quindi che risiedono, che hanno la residenza nel comune di Gubbio o comunque nei territori che rientrano nella competenza territoriale possono farlo a Gubbio così come tutti coloro che vogliono convenire in giudizio una società che ha sede appunto nel comune di Gubbio, Gualdo Tadino possono finalmente rifarlo qui dinanzi al giudice di pace di Gubbio. Come giudici di pace abbiamo una competenza abbastanza importante siamo competenti per quanto riguarda determinate materie esclusive ad esempio in materia di immissione di fumi quindi rapporti tra proprietari e detentori in caso di controversie per quanto riguarda esalazioni, immissioni di fumo al di fuori oltre la normale tollerabilità poi siamo competenti in materia di contrasti per il piantamento di alberi, siepi eccetera queste sono alcune competenze esclusive che abbiamo indipendentemente dal valore poi per quanto riguarda invece le cause noi siamo competenti per valore fino a 5.000 euro per le controversie che abbiano oggetto in materia di mobili poi per quanto riguarda invece i risarcimento di danni prodotti dalla circolazione dei veicoli innatanti fino a 20.000 euro quindi diciamo una competenza abbastanza importante poi è importante direi visto l'argomento siamo competenti in materia di opposizioni a sanzioni amministrative e quindi tutte le violazioni al codice della strada quindi verbali che vengono fatti ai cittadini che violano le norme in materia di circolazione stradale quando vengano commesse appunto, ripeto, nel territorio che rientra nella giurisdizione del giudice di pace di Gubbio possono farlo davanti a questo ufficio finalmente Allora, secondo la sua esperienza per quali di tutto questo elenco di questioni soprattutto un giudice di pace viene chiamato in causa? Ma guardi, io vedo ormai dopo anni di esperienza che generalmente abbiamo la materia molto spesso è in quest'ultimo settore quindi in materia di circolazione stradale violazioni alle norme del codice stradale abbiamo molti decreti ingiuntivi quindi decreti ingiuntivi nel momento in cui un cittadino vanta o anche una società vanta crediti e quindi spesso fino a 5.000 euro diciamo che il valore è importante poi ultimamente con la modifica della magistratura onoraria è stata, speriamo, vediamo, si entrerà in vigore quindi sarà aumentata molto la nostra competenza sarà aumentata, speriamo, la nostra competenza poi siamo competenti anche in materia penale in materia di decreti di espulsione di cittadini diciamo che abbiamo un bel lavoro nonostante siamo magistrati onorari però abbiamo un buon lavoro Allora proviamo a far capire al cittadino no, proviamo a far capire al cittadino un po' impreparato ad esempio come me rivolgersi ad un giudice di pace è un'opzione che il cittadino può richiedere quando si rivolge al proprio avvocato o avviene in automatico per tutte queste competenze per i parametri che ci ha elencato Certo, non è facoltativo, non è un'opzione dipende, come abbiamo detto dal valore della causa e dalla materia nel senso se dobbiamo richiedere il pagamento di una somma il cui valore è fino ai 5.000 euro dobbiamo andare dal giudice di pace il giudice di pace diciamo che nasce dopo il conciliatore, il pretore che avevano una funzione appunto conciliativa nasce, si chiama appunto giudice di pace perché si pensava diciamo che noi al sempre quantomeno io sempre cerco, anche perché ce lo prevede lo prevede il codice l'articolo del codice di tentare una conciliazione tra le parti soprattutto in materia penale quando ci sono delle querele prima avevamo l'articolo eravamo competenti in materia di ingiuria successivamente l'ingiuria è stata demoralizzata e quindi adesso diciamo non è più non è più considerato reato però anche per altri reati in cui magari vengono fatte querele all'inizio noi cerchiamo io cerco sempre di provare a tentare una conciliazione anche dal punto di materia civile poi spesso ci riusciamo spesso non ci riusciamo per cui la parte decide di andare avanti gli avvocati decidono di fare giustamente il loro lavoro e quindi le questioni delicatissime ma sempre purtroppo molto numerose dei rapporti un po' delle frizioni fra vicinato ad esempio quelle sono abbastanza ne abbiamo abbastanza in materia anche di rapporti in materia anche di modalità d'uso dei servizi condominali per i quali siamo competenti per materia diciamo che soprattutto sì spesso i rapporti di vicinato ecco il discorso anche della distanza le piantagioni le distanze degli alberi dai confini rumori molesti ad esempio rumori molesti abbiamo siamo competenti emissioni qualora le emissioni superino appunto la tollerabilità prevista dalla legge queste diciamo sono principalmente ma principalmente come ripeto abbiamo una bella competenza sia esclusiva e sia per valore ripeto non dimentichiamo che le cause di risarcimento danni abbiamo un valore fino a 20.000 euro per cui è una buona è una competenza abbastanza importante rispetto a quella che poi da 21.000 in poi vanno davanti al giudice di tribunale però insomma abbiamo una bella competenza allora l'ultima domanda e con questo ci salutiamo siamo a poche ore davvero da salutare anche questo 2016 quindi un augurio per questo nuovo anno che fa se stessa che fa questo ufficio che fa questo territorio che è molto vasto però ricordiamo che Gubbio è un po' il comune capofile se non altro perché ha la sede qua e lei sa che gli augubini vengono la città di Gubbio viene definita un po' la città dei matti incrociamo le dita incrociamo le dita io mi auguro di fare continuare come ho fatto sino a ora come faccio sempre a Perugia durante le mie udienze di fare questo lavoro in modo con impegno dedizione è un lavoro che mi piace fare è una sfida è una sfida soprattutto riaprire questo giudice di pace e sono felice che i sindaci di Gubbio e di Gualdo abbiano deciso di riprovarci era stato secondo me immotivatamente chiuso appunto come diceva giustamente lei un territorio che sta distante molto distante da Perugia e quindi ritengo che sia giusto un augurio che mi faccio è quello di iniziare il 2017 nel miglior modo possibile per me per i cittadini per la giustizia altrettanto buon anno e grazie 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 grazie